Clamorose indiscrezioni arrivano dalle registrazioni del 29 ottobre di Uomini e Donne. La tronista Martina avrebbe avuto uno scatto decisivo verso un corteggiatore. La notizia arriva mentre si consuma l'addio di Mario Verona, che ha deciso di frequentare una dama del trono over, Giovanna, lontano dagli studi. Lo aveva detto lui stesso. Non sono più nel programma perché sto conoscendo Giovanna, una delle corteggiatrici del classico, ha rivelato l'ex cavaliere. Mi piaceva Giovanna, era tra le corteggiatrici e ora ci stiamo conoscendo fuori dal programma. Giovanna era una delle corteggiatrici di Michele e Alessio. E sembra che il sentimento sia forte e reciproco. Entrato un anno fa, aveva fatto parlare soprattutto per la sua storia con Milena Parisi con la quale l'amore sembrava essere sbocciato. Invece le cose erano andate diversamente. A 15 giorni dalla fine del programma, lo scorso maggio, era arriva la notizia del loro addio definitivo. Un addio definitivo a cui non è pronta Martina che, rivelano le anticipazioni, è andata a riprendersi Ciro dopo lo scontro dei giorni scorsi. Un gesto che fa pensare che sarà lui la scelta di Martina. Cosa era successo? Nella puntata del 29 ottobre Martina era rimasta delusa da Ciro. Colpa di un comportamento avuto da lui nei riguardi nell'atronista. Ciro, infatti, arrabbiato con Martina, ha poi ballato con un'altra ragazza. Gesto che l'atronista ha criticato in studio fortemente, ritenendo di non potersi, in questo modo, fidare di lui. Il pubblico di uomini e donne è convinto che presto ci sarà la scelta di Martina. È molto presa da Ciro, scrivono in fan e si vede. E ancora, Martina sceglie Ciro! Le si legge in faccia. E pare che lei non faccia nulla per nasconderlo. Da rifiutato a scelta, il passo sembra essere stato molto breve. E questo è tutto. Voi cosa ne pensate?